Durante la pratica e nel tirocini una volta vinto il concorso, io ho frequentato uno studio della mia città, il quale è cliente di Oasis Temi e si avvale di Suite Notaro. L'ho trovato un software valido che permette al notaio, ai suoi collaboratori, di svolgere al meglio l'attività notarile. Però quando è stato il mio momento di scegliere quale gestionale adottare, mi sono trovato spiazzato. Ho ricevuto tante proposte, tante offerte, il mercato offre tanti gestionali. Nella scelta io ho fatto due valutazioni. Da un lato volevo continuare ad essere cliente di Oasis Temi, proprio perché Suite Notaro mi sono sempre trovato bene con questo software. Dall'altro però volevo un gestionale che fosse tecnologico, innovativo e quindi più adatto a me, che sono un appassionato di informatica e quindi la mia scelta è stata obbligata. Sono andato con Notaio Next, all'inizio forse è stata una scommessa, però oggi mi sento di dire che è stata una scommessa vinta. Notaio Next mi permette di lavorare bene, con efficienza, con speditezza. Tra i tanti servizi che Oasis Temi e quindi Notaio Next offrono a noi notai, abbiamo il formulario d'argilla, strumento fondamentale a mio avviso. Contiene realmente tutto lo scibile notarile. Io ho deciso di avvalermi di questo formulario, ma al tempo stesso ho anche creato una sorta di formulario mio, degli schemi di atti che nel lavoro di tutti i giorni si sono rivelati fondamentali, cruciali. Questo perché io ho un continuo controllo sugli atti che vengono scritti nel mio studio. Anche le formule che io ho predisposto vengono poi utilizzate dalle persone che lavorano con me. In questo modo non devo preoccuparmi di controllare continuamente il testo dell'atto, devo semplicemente fare un controllo su quale formula è stata inserita. Nella scelta del gestionale per me era importante un elemento. Volevo un gestionale che lavorasse in cloud e quindi non volevo essere vincolato a un computer fisso nel mio studio. Per tante ragioni, una su tutte è il pericolo di hackeraggio. Notaio Next in questo senso soddisfa totalmente le mie esigenze. È un software che nasce, è nativo in cloud, nasce in cloud e quindi tutti i miei atti sono fruibili da qualsiasi postazione. Io posso collegarmi da casa, posso collegarmi anche dalla macchina, ma non solo per scrivere atti, ma anche per guardare l'agenda, anche per guardare le mail. Questo vantaggio in realtà è anche più marcato nella predisposizione dei fascicoli. Quando io instauro una pratica mi limito a o inserire i file che già scarico da internet nei miei fascicoli digitali, oppure se mi viene presentato un documento cartaceo lo scannerizzo e lo inserisco direttamente nel fascicolo. Per finire voglio raccontare un aneddoto simpatico che mi è capitato di recente. Alcuni notai del distretto incuriositi dal mio gestionale, dai miei racconti, sono venuti nel mio studio e hanno guardato con me le funzionalità di Notaio Next, hanno guardato con me la possibilità di scrivere atti, di avere un continuo controllo sull'atto. Sono rimasti molto compiti, soddisfatti e loro in realtà già sono clienti o assistemi e probabilmente passeranno da Suite Notaro a Notaio Next. Notaio Next